Assessore Cremonese, era nell'area il mercatino etnico di Pescara dell'area della stazione? Chiude definitivamente? Quale sarà il futuro proprio di quella zona della città? Oltre che essere nell'area, io direi che era un chiaro obiettivo della giunta di centrodestra. Carlo Masci si era dato tempo sei mesi insieme alla giunta di centrodestra per chiudere il mercatino etnico. In realtà siamo stati bravi e virtuosi perché in cinque mesi abbiamo dichiarato con la delibera di giunta 806 che è stata approvata ieri abbiamo dichiarato la chiusura del mercatino etnico. L'obiettivo, come ho già avuto modo di dire, era la chiusura del mercatino etnico perché a nostro giudizio, come abbiamo avuto modo di dire, in circa oltre 30 sedute di consiglia comunale alla loro aggiunta Alessandrini, per noi quella non è un'area idonea per svolgere attività commerciale. Quindi l'obiettivo è stato centrato. Adesso la maggioranza aprirà un ragionamento, una riflessione su qual è il futuro di quell'area che chiaramente deve essere sfruttata perché è un'area qualificata, riqualificata e quindi sicuramente il nostro percorso inizia da qui per uno studio su ciò che deve sorgere in quell'area. Orientativamente sono stati spesi circa 250 mila euro. Oggi la città di Pescara si ritrova, anche se non è un bene di proprietà del Comune di Pescara, comunque si ritrova un'area riqualificata. Come dicevo prima, la maggioranza dovrà riunirsi e capire quale può essere la destinazione più idonea per quell'area. Per adesso sono state fatte delle ipotesi che sono del tutto personali. Una parte del mio gruppo ha sostenuto appunto un parcheggio destinato ai commercianti. Io per esempio ho chiesto di realizzare lì una cittadina dell'elettrico, cioè deve poter affittare bice elettriche, monopattime e quant'altro perché credo tantissimo nella mobilità sostenibile. Ma altri hanno sostenuto anche altre idee come per esempio un museo del treno o tanto altro. Io credo che non si vada da nessuna parte con le iniziative personali. Bisogna sedersi, tutta la maggioranza deve insieme decidere, siamo una squadra, deve decidere qual è la destinazione migliore di quell'area. Grazie